Leggere i versi di Le Than Bin, autore vietnamita di grande profilo accademico, significa immergersi in un mondo affascinante dove la natura è protagonista. Gli scenari descritti suscitano profonde sensazioni, fino all'estraneazione dal mondo reale. Le Than Bin è nato nel 1955 in Vietnam da una famiglia di intellettuali militari e professore associato, dottore di ricerca ed esperto di comunicazione e diplomazia. Culturale